Domani porterò dunque la mia croce costruita apposta con le scatole che mi portano a casa per il coronavirus e è una croce relativa ai patimenti che io ho dovuto avere i tre digiuni per dare al papato che lo aveva chiesto un nuovo percorso come quello che Paolo iniziò inserendo la sua predicazione su quella degli apostoli che erano comandati da Pietro. Il papa Giovanni Paolo II l'aveva auspicato, uno solo al mondo ha cercato di farlo e si è trovato contro proprio la chiesa che lo aveva chiesto. Io ho iniziato a digiunare per dimostrare al papa che non aveva da temere in un nemico, mi consegnavo nelle sue mani ma non è vasso a nulla, è passato il tempo e non sono mai arrivate nemmeno delle scuse così, tanto per mettere a posto qualcosa. Ecco, i giorni che passano sono significativi e io qui ve li ho presentati, ma ve li mostro ad uno ad uno. La prima volta in cui io offrì la mia vita per il bene della chiesa fu il 17 settembre del 99. Da allora, domani, sono 7.535 giorni. È tutto il movimento di 2.084 più 381 nel 10.000 che indica tutta quanta la realtà, 10 elevato a 4, ossia data da 10 per 10 per 10 per 10 per 10. Lente il movimento intero in tutta quanta la realtà è questo, è un'area i cui lati sono mille e mille e il cui flusso è il valore del nome di Gesù. Con la prima lettera G di Giacobbe che si mette davanti a Esau che perde la A del primato. e tutto questo accade in Genesi 25, proprio laddove io sono nato in gennaio del giorno 25. Ebbene, come vedete, questo ente deve inoltre sommare al flusso di Esau e di Giacobbe che servono per realizzare il nome di Gesù, il 381, che è il valore numerico di tutti e sei i miei nomi. Per la seconda volta nel 2005 fui costretto a mettermi a digiunare. Iniziai l'11 ottobre del 2005 con il nuovo Papa Benedetto XVI e per la seconda volta offri la mia vita per la fede e la ragione, ossia per l'aggiunta di un Paolo a Pietro. Ebbene domani in cui io porto alla Madonna questa mia croce sono trascorsi da quel giorno 5.319 giorni. È tutto il moto di 44% più 381, quello che avviene nel 10.000 che indica tutta quanta la realtà data da 10 elevato a 4. L'ente il movimento intero in tutta quanta la realtà è dato da 100, che sarebbe il 100 blocco a giù di cui parlò Gesù Cristo, che si moltiplica per 44, che sono solo i due terzi di Romano, il mio primo nome che vale 66 e che nel 44 indica l'area. Non c'è il flusso perché il flusso è il 100, il 100 blocco a giù. Ebbene ai due terzi del nome che valgono come il 100 blocco a giù, bisogna aggiungere ancora in questo caso il 381 che è la somma cabalistica di tutti e sei i miei nomi. Per cui si vede che anche quando iniziai la seconda volta del mio digiuno il tempo messo in relazione a domani in cui chiedo a Dio la ragione di tutto questo è un tempo che come vedete è legato in maniera precisissima al valore delle quantità proprio che sono quelle del mio nome. Non avendo ottenuto nulla allora provai anche con Papa Francesco e iniziai il 26 marzo del 2013 a digiunare rendendogli la notizia di tutto quello che avevo fatto prima e che questa questione era in sospeso. C'erano quattro sacerdoti e 460 persone che avevano fatto una petizione scritta al Papa al quale non si erano nemmeno degnati di dare una risposta di cortesia. Ebbene è stato inutile, ho digiunato inutilmente per 80 giorni. Ebbene dal 26 marzo del 2013 fino a domani in cui io vado a rimettere questa questione nelle mani della Madonna ci sono 2.596 giorni. È tutto il moto di 7.023 più 381 nel 10.000 che indica tutta quanta la realtà 10 elevato a 4 e lente in moto intero in tutta quanta la realtà è dato da 7.000 che è la creazione intera data da 10 al cubo volte 7 giorni più 23 che sono le ore in cui uno che si ritrova in un giorno di 24 ore si muove, si muove solo delle altre 23 che gli restano, però a questo movimento di 1 in tutta la creazione bisogna per la terza volta aggiungere 381 che riguarda tutto il valore alfa numerico del mio nome. A questo punto, poiché la questione come si vede è sempre la stessa, io ho fatto il totale di tutti i giorni inutili che sono passati da quando ho iniziato a fare tutto questo fino al giorno di domani. Tutti i giorni di cui vi ho reso l'evidenza prima sono 5.319 più 7.535 più 2.596 per un totale di 15.450. Questi sono tutti i giorni del sacrificio speso inutilmente per tre Pietro dai quali non è venuto mai il benché minimo pentimento. Ora questo quantitativo totale, visto che è messo in relazione al primato di Pietro, va analizzato proprio in relazione ai numeri primi. 15.450 è quasi il numero primo 1803. Il numero primo 1803 misura 15.439 che rispetto al 15.450 deve solo avanzare interamente di tutta la presenza 1 del ciclo 10. Solo quando questo numero primo avanza interamente sia nell'unità del tempo sia nell'unità dello spazio arriva e porta il 439 a valere 450, fermo restando il 15.000. Come si vede anche il 1803 trascende un numero che abbiamo sempre visto essere 381, ossia il valore numerico di tutti i miei nomi. Il valore legato al numero primo diventa trascendente, ossia si rovescia esattamente in tutta la questione, con la differenza che quello che era 3 diventa 30. E il valore legato esatto sarebbe 3081, è 381 tenendo conto appunto che qui il valore teneva conto di un avanzamento che bisognava introdurre e che è introdotto nel numero primo. Perché il numero primo invece di essere 3 seguito da 81 è 30 seguito da 81, ma quell'avanzamento lì nel numero primo non basta. Quando noi non vogliamo fare queste alchimie per riportare tutto al 381, che è il quantitativo del mio nome, profondamente coinvolto nel tempo che porta a domani, e perché domani è significativo per me? Domani io compio esattamente 83 anni da quando fui concepito il 4 di maggio del 1937 nel grembo di mia madre. Avrei fatto io, Romano 66, una gestazione di 266 giorni esatti e sarei nato poi nel gennaio, nel giorno 25 del 1938. Dunque per me domani è l'anniversario del momento nel quale Padre e Spirito Santo sono entrati nel grembo di mia madre e si sono installati nella brutta e povera e disadorna stalla di un asino. Io non sono Dio, io sono l'asino, ma quando questo asino fu concepito ci furono Padre e Spirito Santo che si installarono sull'asino per reggerlo e guidarlo. E questo che vi sta parlando è un asino docile, è un povero di spirito, che non usa e non ha difficoltà a dirsi povero di spirito, perché è uno che quando si mette a osservare le cose non mette in atto nessun preconcetto tipo ma va è impossibile. No, è talmente povero di spirito da accettare qualsiasi riscontro reale sia fatto e anche questo riscontro fatto attraverso il computer come vedete che indica alcune cose io le prendo per buone, perché io sono un povero di spirito, perché io sono un povero di spirito, non pongo davanti a ciò l'idea ma va è impossibile. Per me tutto è possibile quando è nelle mani di Dio e io domani metterò nelle mani di Dio la questione proprio di questo che ho compiuto rischiando per tre volte la salute e la vita verso i suoi Pietro. Essi non hanno fatto proprio nulla. Signore, io chiedo a te, libera il mondo dal coronavirus.